Salve e ben trovati al consueto appuntamento quotidiano con i mercati. La seduta di ieri rimane solo un ricordo. I mercati infatti cancellano i rialzi accumulati 24 ore fa con una seduta profondamente ribassista. Ancora una volta c'entrano le possibili mosse delle banche centrali, le quali potrebbero scoraggiare gli investitori nel caso in cui, come si paventa, esse possano risultare troppo restrittive. Il Fuzzimib perde ben oltre 3 punti percentuali, con un calo che era iniziato praticamente dai primissimi minuti di contrattazione per poi aggravarsi ulteriormente nelle ore seguenti. Quasi identica alla variazione del DAX, meno 3,31, anche il quadro grafico è molto simile a quello milanese appena visto. Non sorridono neppure i listini di oltreoceano. Il Dow Jones infatti sta subendo una flessione di 2,5 punti percentuali, quanto basta per scendere sotto i 30 mila punti dopo circa un anno e mezzo dall'ultima volta, mentre il tecnologico Nasdaq addirittura sta accusando un tonfo del 4% circa. Tra i titoli principali del Fuzzimib perdono oltre il 6% STM e Tenaris, in trend ribassista per la settima seduta consecutiva. Dopo i rialzi di ieri Moncler e Interpump mettono la retromarcia, chiudendo a ridosso dei 5 punti e mezzo di passivo. Stellantis a meno 5,28% aggiorna il minimo degli ultimi due mesi in area 12 e 15. In controtendenza Saipem, che vanta un ottimo più 2,55%, bene anche Nexi, che mette a segno un punto di progresso. Terna beneficia del premio Business International Finance Awards 2022 e riesce ad evitare le vendite aggiudicandosi un rialzo frazionale dello 0,24%. Intanto la moneta unica trova modo di risalire nei confronti del biglietto verde. Il rialzo pomeridiano infatti ha riportato il cambio sopra quota 1,05$. Negativi gli altri cross, tra cui Eurosterlina che sta perdendo più di mezzo punto percentuale rimanendo per il momento sopra a 0,85$, ma è ancora più pesante il passivo dell'euro yen per via dei cali della mattinata. E ora chiudiamo con l'intervista al Salve a tutti, ospite di oggi delle interviste di Traderlink Giacomo Moie, analista tecnico. Daremo uno sguardo con lui ai mercati in queste giornate di montagne russe. Lasciate comunque le considerazioni. Ben trovata Rossana, indice azionari restano zavorrati, appesantiti sul fronte della debolezza anche dopo i dati americani peggiori delle attese. In realtà il pesante umore ribassista è stato alimentato stamani dalla considerazione che la tardiva aggressività della Fed favorisce a questo punto il ritorno di uno scenario recessivo, reso ora più probabile dall'eccessivo attendismo che la stessa Fed e in parte la BCE hanno precedentemente mantenuto. Su fronte ai BCE il mercato si pone la domanda sulla consistenza dello scudo antispread ieri annunciato. Per quanto concerne la condizione tecnica attuale, domani scadenze tecniche delle tre streghe in cui liquidazioni e riassunzioni di posizioni possono alimentare movimenti anche estemporanei. Questo è un dato che si aggiunge alla vulnerabilità e delicatezza della condizione appena commentata. Situazione grafica complicata dunque per gli indici internazionali nella misura in cui la revisione dello scenario ribassista tattico e di breve passa per una qualche manifestazione di forza al momento non pervenuta a sufficienza secondo i nostri modelli dopo il recupero di ieri. Nel caso specifico del Futsimib, qui ho osservato con candele giornaliere, l'area di minimo del 13 e 14 giugno tra i 21.600 e i 21.800 ha identificato un tentativo di rimbalzo che non è confluito in conferma di segnale realzista che ieri richiedeva un epilogo sopra i 22.550 punti, ovvero il superamento della media settimanale dei prezzi, questa qui osservata in verde, ieri 22.5 e 12, mentre la chiusura è venuta a 22.475. Dunque il riscontro da abbinare in questa fase nell'ambito di un movimento ribassista che altrimenti si propone come vehemente. Per oggi chiusura tra 21.850, 21.615 può proporre un altro momento di verifica ma va cercato un epilogo sopra la media settimanale dei prezzi anche qui da ricercarsi per la seduta almeno successiva per riaccreditare l'ipotesi costruttiva. In tutti gli altri casi rimane uno scenario tattico ribassista con possibilità di estensione del ribasso sia in termini temporali per la prossima settimana sia in termini di valori di discesa verso l'area di 21.000 minimo di marzo. Per l'S&P 500 passiamo alla ricognizione degli indici internazionali, una notazione operativa non molto differente nella misura in cui, qui osservato in grafico giornaliero, il recupero di ieri è andato a testare in resistenza la media settimanale dei prezzi salvo ritrarsi l'indice in chiusura al di sotto di 3.800 punti. Sullo sfondo una condizione tattico settimanale ancora ribassista con un'osservazione in chiusura di settimana domani da esperire per ricercare e raccogliere eventuali preliminari indizi di stabilizzazione per l'S&P 500, chiusura sopra 3.840 per il Nasdaq Composite sopra 10.990, 11.750 invece per il Nasdaq 100. Ecco questi sono i valori di chiusura di ottava per domani da monitorare per evidentemente andare a ricercare un iniziale indizio di stabilizzazione tattica in tutti gli altri casi in assenza di queste evidenze siamo ancora all'interno di una sequenza tattico settimanale di debolezza ancora in corso. Perfetto, io ti ringrazio per tutte le informazioni e con te rimando l'appuntamento alla prossima settimana. A voi. Termina così l'approfondimento di oggi, non mi resta che ringraziarvi per la visione e augurarvi una buona serata, ci rivediamo domani.